Chiaramente siamo sconvolti se dovessero essere vero quanto riportato dal fatto quotidiano. È chiaro che c'è una involuzione del sistema che ha portato poi al giudizio. Detto questo si verificherà e saranno gli organi competenti a verificarlo. Noi come Regione chiediamo ancora di più a tutti gli organi competenti, tutti, nessuno escluso, compreso il Ministro, un supplemento di indagine e di verifica su ciò che è accaduto. Poi saranno gli altri a decidere, gli altri poteri a decidere se questo processo si rifà, come si rifà, quali sono gli effetti in termini giudici. Noi dal nostro punto di vista non saremo certo la Regione che sta a guardare. Noi vogliamo che tutta la verità sia certe fino in fondo perché quello che è accaduto lì grida allo scandalo e grida alla vendetta degli abruzzesi. Non si può lasciare una Regione in queste condizioni, le sentenze si rispettano, non le abbiamo commentate. Oggi c'è un fatto che emerge, questo fatto che emerge è il diritto di essere ripreso e riapprofondito perché noi non staremo a guardare. Grazie. Grazie.